Bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con l'episodio numero 24 dei nostri camberetti Guardate che contento il nostro, il nostro popo Maullo col suo gel, col suo gilettino color tortora, no tortora, era color, granata Carino, era carino che era contento che abbiamo raggiunto la finale, signore dei playoff per la possibile promozione in League One In questo video ci andremo a giocare proprio la finale tra Morecambe e Bredford, ce la giocheremo noi signori Partita importante, scendiamo noi in campo sperando di riuscire a fare una bella figura Detto che signori, prima di partire il video vi ringrazio per, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove vi aggiorno sulle uscite dei video e sulle live e su e quando andiamo a fare live Sia su questa piattaforma che su quella viola, infatti anche dall'altro lato mi trovate sempre come Maullo941 Ultima cosa ma non meno importante, in descrizione trovate i link dei miei canali abbonati Perché in quanto imbonati hanno guadagnato il privilegio di avere il link in descrizione delle loro pagine di YouTube Detto che signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Allora, abbiamo una squadra mezza stanca perché giustamente abbiamo fatto due partite di fila che non sono state proprio due passeggiate Non sono state proprio due passeggiate, io però diciamo che loro sono i giocatori più forti che noi abbiamo Non abbiamo granché di sostituti Abbiamo un Diago Conalà che è un 56, Miura un 59, Aladino un 61 che ci partiamo in panchina Anche se Aladino potrebbe giocarsi, Lavasella un 59 Songo che ancora non ha cambiato il ruolo Songo, porca miseria Quanto ci sta a cambiare ruolo Songo? Mamma mia 53, 62, McGree 61, 55, sloa niente Signori, i più forti ce li abbiamo in campo Quindi è inutile Pensare di cambiare qualche cosa È inutile pensare di cambiare qualche cosa Io volevo solamente vedere una Mi è venuto un dubbio, ho visto troppi meno uno Ma stanno migliorando tutti, stanno prendendo tutti dei punti Tranne persa, Alcaccia un 34 ha perso 5 punti di overall Mamma mia, meno male che te ne vai a fine stagione Amico mio, più 11, Vasella è salito di 11 punti Tanta roba, sì, comunque sono migliorati tutti Tranne qualcuno Pringles, 32 anni, ci sta Diaggurara, 33 anni, ci sta Poi tutti gli altri sono migliorati tutti Miura tiene, Miura tiene Il nonno Miura, 54 anni, tiene il suo 59 È bello stretto, va bene così Perfetto, ok, no, vedevo dei meno uno nell'informazione Mi mettevo un attimo di ansia Non perdiamo tempo, signori Ci giochiamo la nostra prima effettiva partita con i gamberetti La prima volta che scendiamo in campo Anche nella stagione 1 non siamo mai scesi in campo A giocare una singola partita Oggi lo faremo, signori Oggi lo faremo Le partite decisive abbiamo deciso che ce le giochiamo Le partite decisive abbiamo deciso che ce le giochiamo Abbiamo guadagnato il pass per la finale Vincendo le due partite andate e ritorno No, l'andata l'abbiamo pareggiata Il ritorno l'abbiamo vinto contro il Forest Green Nelle due partite semifinale Guardalo, il nostro Kezu Yushimiura Che sta pensando a ritiro Ma quando mai? C'ha due anni di contratto Dove devono andare? Dai, dai, non perdiamo tempo, signori Non perdiamo tempo alla coppa Perché la coppa? Cioè, ma le che vada? Arrivano terzi? Danno la coppa ai terzi? Ma di che stiamo a parlare? Ah, la coppa dei play-off? Ok, ci sta, ci sta Bradford, Moore e Campbell Loro vengono da un 4-4 e hanno passato a rigori Porca miseria Signori, speriamo bene, speriamo bene Che vi devo dire? Incrociamo l'incrociabile Vediamo come finisce Vediamo come finisce Io, per essere sinceri, non gioco realmente a FIFA da anni, signori Quindi non so cosa può succedere in questa partita Io penso di lasciarvi tutta la partita sana Così proprio da farvi gustare le... Mamma mia Le peggio cose che possiamo andare a fare in questo video Dai, dai, dai Che era? Non era fuori Ma porca miseria Non era mai fuori Dai, dai, dai Dai, dai, dai O Sullivan O Sullivan No, no, no Mellor, 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 Mellor Accorcia, accorcia, accorcia Mellor Eh, sì, vabbè, questi giocano di tacco Poi che è? Fuori gioco Va bene, va bene C'è finita bene, signori Quarto minuto Quarto minuto 0-0 fra Morecambe e Bradford Davis La gioca sulla faccia per Mellor Mellor, 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 Mellor Per O'Sullivan O'Sullivan No, dai, signori Ma Miura non sta pensando a ritiro C'è un altro anno di contratto Ma non lo fate giocare tranquillo Nono Miura Dai, fatelo stare da bello tranquillo In panchina Che mi serve la mascotte No, 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 no Fuori sta palla No, 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 signori Bravo Meno male che c'è Alstad Alstad la tiene lì 8 minuti, signori 8 minuti Guardate il nostro bellissimo Papa Maullo Col suo maglioncino rosso A bordo campo Si vede Si fa notare Dai, 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 dai Dai, 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 dai Ma porca C'era l'inserimento perfetto di quello Qualcuno che stiene da prendere il pallone Qualcuno che stiene da prendere il pallone Qualcuno che stiene da prendere il pallone Dai, dai, così Vieni, vieni qui Vieni, vieni qui Dagliela, dagliela, dagliela Ok Calma, calma Guarda, guarda Guarda, buono l'inserimento Stop, le tira, stop, le tira No Chi è stato wielding Buona, era buona Era buona Dai, dai, crediamoci, signori Crediamoci Crediamoci Forza, forza, forza Camberetti Forza Camberetti Ce l'abbiamo fa, signori Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Il sogno Liguana La prima stagione era impensabile Bellissimo Dai con l'inserimento Va bene così Dai Sullivan Dai Sullivan Corri Dimostrami che sei ancora importante Per questa squadra Dai, 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 dai Gioca lì, gioca lì Guarda l'inserimento Bellissimo 1-0 1-0 Ora è valido E' buono, signori 1-0 Canon Festeggia la Cristiano Ronaldo Ci sta I Camberetti ci credono Grandissimo Canon Che festeggia così Dai Dai, grazzarola 1-0 Va bene così Canon Pollice verso l'alto Col suo numero 14 Bellissimo Non so di chi sia stato l'assist Ripetiamo un numero così velocemente Bellissimo Il portiere va a papere Il portiere va a papere 1-0 Canon Alex Bravissimo Cano Va bene così Signori Calma e sangra freddo Che ancora non abbiamo fatto niente Ancora non abbiamo fatto niente Non abbiamo fatto assolutamente niente Dobbiamo continuare a crederci Dobbiamo continuare a crederci Dai, dai Il quindicesimo Il quindicesimo Moregambe 1 Bread for 0 Madonna mia Lo stavamo asfaltando Signori Lo stavamo asfaltando Però Però No, 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 no Fuori sta palla Mamma mia Come l'ha messa fuori brutta sta palla Dai, dai, dai Guardalo, guardalo Guardalo Bravissimo Wilding Vattene, wilding Vattene, wilding Prendi spazio Prendi spazio Va bene così Guardalo, guardalo, guardalo Guardalo No Che passaggi brutti Signori Ma che fate Come l'ha stoppata Ma come cazzo Grandissimo Che scende al centrocampo Può dire aiutare i compagni Wilding, wilding, wilding Vedi ancora Sullivan, Sullivan No, perde il pallone Sullivan Mannaggia Il nostro terzino destro Quello già non è promettente Non me lo sono portato Perché dico Wilding Mamma mia Già il terzo pallone Che sbaglia Anche se non so Forse l'assist L'ha fatto lui Bravissimo No, 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 no Lavandino, lavandino, lavandino Lavandino No, bravissimo Allstad Allstad la salva Alstad della salva Calma, calma, calma Mellor Guarda, guarda Libero, libero Davis Bravissimo Davis Davis per Wilding Wilding per Sullivan Oh, Sullivan Stai attento a quello che fai Perché non la dai in profondità Sullivan C'hai paura di darle in profondità Ok Sullivan Wilding Wilding, 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 wilding Wilding, wilding Stockholm Wilding Wilding Sullivan Sullivan Fuori gioco di Mellor Non è vero? Sì, fuori gioco netto di Mellor L'ho vista con la cosa dell'occhio Che è partito Un millimetro prima Va bene, va bene Mannaggia Dai, dai, dai Ventiseiesimo Ventiseiesimo, signori Ventiseiesimo Ventiseiesimo Stiamo vincendo 1-0 Dai, 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 dai Dai, dai Fermalo, fermalo Sbroccalo Ammazzalo Asfaltalo No, 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 esci, esci, portiero, portiero, esci Meno male, mamma mia Meno male che Alstad ha salvato Sullivan, Sullivan, prendi tempo Prendi tempo, Sullivan Corri su quella fascia, Sullivan Corri su quella fascia, Sullivan Dai, 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 dai Fermati, fermati Che sei lentissimo Sullivan Per Leigh Smith Leigh Smith Vede il movimento di Stockholm Buonissimo Stocco con la piazza Al centro Stocco di testa Monno Giotte Sullivan Fai qualcosa di buono Bravissimo Ancora Ci proponiamo Sulla fascia di testa Il costo è buono Non ci arriva Non ci arriva Ripartono loro Lavandino esce Sulla linea del centrocampo Lavandino Dove sta andando? Lavandino torna in difesa Loro si presentano bene Superano la metà del centrocampo Sulla fascia di sinistra Wood contro Mello Anche noi al Venezia avevamo il nostro pezzaregno Wood Quest'oltre ce l'abbiamo Avversario Vabbè Vecchi ricordi Che è meglio tenerli sotto il radio No, 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 no Non gli fate liberare il tiro No, 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 signori Signori Va bene, va bene Abbiamo ingesso un calcio d'angolo al trentacinquesimo Ci può stare Calcio d'angolo al trentacinquesimo Ci può stare Dai, 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 dai Fuori sta palla, signori Fuori sta palla Fuori sta palla Dieci minuti E finisce il primo tempo Dieci minuti E finisce il primo tempo Cazzarro di nomi Dovevate semplicemente spazzarla Dovevate semplicemente spazzarla Non siete nemmeno a spazzarla Bravo Bravo, 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 bravo Dai, 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 dai Che sono usciti No, no, no Ancora lì Ancora lì Esce Alstad Grandissimo Alstad Buttiamo fuori sta palla Per cortesia Dai, dai, dai Dai, Les Smith Fai qualcosa di interessante Signori, stanno attaccando solamente loro Stiamo subendo in una maniera pesantissima Va bene Wilding Wilding Non riusciamo a fare un passaggio Uno, uno, uno Non riusciamo a farlo No, no, no Signori No, è fuori gioco Ma era fuori giochissimo Dai Wilding Ok, Alstad Calma, 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 calma Calma Bellissimo di Mellor che invece di andare sul fondo si ferma Rientra La crossa leggera No dai, perché mi hanno fatto blocco Un minuto di recupero, è finita arbitro Il primo tempo è andato, il primo tempo è andato signori Ok Un infarto Il primo tempo è andato signori 45 minuti ce li siamo fumati Possiamo dire di avere una gamba Un piede Si dice un piede, non si dice una gamba Abbiamo un piede In League One Signori, tutto dipende da noi Dobbiamo resistere, che bella però la maglietta quest'anno Dei gamberetti che fanno cent'anni Ci serve solamente Altri 45 minuti così Wilding è stanco Kanon, Sullivan Va bene, tanto da quel lato non dovremmo più giocarci Che di solito gioco da questo lato Gioco dal lato vicino dello schermo Di solito sulle fasce Quindi la dovremmo spremere al massimo il nostro giardino Per cercare di Per cercare di Dai 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 le smith Ma porca miseria Dai dai, recuperiamo sta palla Signore, bravissimo Wilding No, Wilding mio Hai sbagliato un passaggio che era qualcosa di importantissimo Wilding mio No, 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 no Lo fermiamo signore No, vabbè dai Non ci posso credere Non ci posso credere Ma porca miseria Il Bradford la pareggia subito Il Bradford la pareggia subito Il Bradford la pareggia subito al 49esimo con Clark Abbiamo lasciato un'autostrada L'abbiamo lasciato un'autostrada al centro In piena difesa praticamente Giardino 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 Eh, questo è fallaccio però Questo è fallaccio Dovete scusarmi Ma questo è Dove sono i miei attaccanti, signori? Come faccio a giocare solamente con Giardino? Dai Giardino Dai Giardino Cerca lo spazio Mamma mia Che brutto Ma cosa fai? Giardino Io ho tante speranze in te E tu fai queste cacate terribili Dai 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 Premere sul difensore Premere sul difensore Signore, voglio andare in League One Porca miseria Abbiamo andato in vantaggio Dovevamo semplicemente tenerla Ma dove è la mia difesa? Ma dove cazzo non è la mia difesa? No, 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 no Bravo così Sulle gambe Bravo, bravo Uccidilo No, signori Ok, con calma Con calma, ripartiamo Ho stato per Mellor Mellor, 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 Mellor Mellor, Mellor, Mellor Ok La palla arriva a Kanon Kanon Stoccon per via centrali Stoccono, stoccono per Let's Meet Che cerco l'inserimento Ma non ci riesce L'inserimento non è riuscito E non posso far uscire Né Wilding Né Kanon Cioè Mi muore il centrocampo Se faccio Chi faccio entrare? Tiago cura la Mamma mia Via, 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 via Allstad Mamma mia La vede passare Mamma mia Vabbè, si è ammonito Va bene Mi prendo questo cartellino giallo Non è un problema Va bene Non so neanche chi sa Ah, Mellor Va bene, va bene Lavandino 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 per Harry Harry si già su se stesso E vede Kanon Kanon Vede il movimento di Stoccon Stoccon si ferma Stoccon si ferma E vede Proporsi Kanon Kanon che accelera con calma Si ferma Kanon No, no Kanon mio Mamma mia Ti sei fatto Ti ha proprio letto Proprio No, no, no Questo no Questo no Esce No, no Mamma che palo Che hanno preso O si allivano per Pringles No, no Si allivano per Pringles No, signori Dobbiamo fare qualche cambio Calma 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 Wilding è arrivato Wilding è arrivato Signori Ma noi non abbiamo nessuno A poter mettere lì Io metterei Foley Smith Che ha fatto pochissimo E mettiamo Aladino E Non posso Diagurara Signori Un 56 Diagurara Diagurara Sa fare il centrocampista Pringles Solamente da esterno Niente Continuiamo così Signori Non ho Non ho Non ho Non ho Ricambi Non ho Che sta a fare Il mio portiere Non ho Non ho Ricambi Mi dispiace per Le Smith Speriamo che Aladino Ci dia la spinta giusta Occhio che sta arrivando L'altaccante Dell'altra squadra Lavandino Lavandino Per Harry Harry Per Cannon Cannon C'è il movimento Di giardino Ma non lo No mi sono perso io Mi sono addormentato io Mannaggia No 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 Fermi tutti È fuori gioco Mamma mia Meno male che era fuori gioco Basta è zitto che era fuori gioco Tutta la vita Dai 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 Lavandino Lavandino per Harry 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 È il nostro principe Il nostro principe Harry Sulla fascia di sinistra Dai 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 La palla arriva a Stockholm Stockholm Riconquista Palla con un intervento Un giudicato Bravo Dai Il bello Anticipo Dai giardino Giardino Per Stockholm Giardino Proponiti però Porca di una miseria Arriva il principe Arriva il principe Harry Sulla fascia Il principe Harry Il principe Harry Il principe Harry Cerca il compagno Libro Toglie così 2 a 1 Cazzo allora che gol Stocco con 1 a 1 Allora Sessantasettesimo Vediamo se possiamo fare altre cacate signori Dobbiamo semplicemente tenere Dobbiamo semplicemente tenere Porca di una miseria Porca di una miseria Ce la riusciamo a tenere secondo voi? Manca almeno di 30 minuti Dai Dai Leva sta palla No Gliela dovevi levarla Pollo Gliela pure toccata Mannaccia Dai 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 No vabbè signore Ma stanno a vincere tutti i rimpari Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Va bene Buono così Fuori gioco Comunque era fuori gioco Va bene Che cosa mi suggerisci? Wilding per Diago Curara No No Ancora no Ancora no Wilding per Diago Curara Ancora no Guarda come viene subito a prendersi il pallone Io la spara pacchia lontana Ancora no eh Via 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 Andiamo a lottare di testa Ma perdiamo Bello grandissimo Wilding Per Stoccon 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 Devi tenerla Stoccon Non ti preoccupare Aladino 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 No Ma certo che abbiamo grossi problemi di controlli signori Cioè non riusciamo a fare due passaggi Come ci siamo arrivati in questa posizione in classifica? Io vorrei tanto sapere Come ci siamo arrivati? Mellor Il nostro melone signori Con calma Per Kennedy Per Kenon Scusatemi Per nostro giardino Giardino per Stoccon Stoccon Vede il movimento di Giardino Che se ne va sulla faccia sinistra Siamo al 75 Dai Giardino Dai Giardino Dai Giardino Dai Giardino In mente di qualcosa Bravissimo La pallelli La pallelli La pallelli Dai così Anche lui Festa Giacomo Cristiano Ronaldo Dove così Porca miseria Dai così 3 a 1 signori Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta signori Siamo Oramai Oramai dico Se pigliamo due gol In 20 minuti In 15 minuti Dico C'è da preoccuparsi Se pigliamo due gol In 15 minuti Che mi suggerisci Kenon per Diagurara Va bene Va bene Andiamo a spazio Diagurara Mamma mia Bene così Bene così Bene così Nostro Aladino Sono tutti uguali Di faccia signori È assurdo L'hanno la faccia Tutte uguali L'unico che riusciremo a capire Chi è Diagurara Che ha il colore di pelle Diverso Poi gli altri Sono tutti uguali 3 a 1 Del Morecambe Sul Bradford City Nella finale Di playoff Per andare In League One Signori L'anno prossimo Penso che Retrocederemo Perché con una squadra Del genere Andare a affrontare Le squadre In League One Sarà una gran Bella Situazione Da Sul cui lavorare Però va bene Va bene Ci siamo arrivati Ci siamo arrivati Signori Avrei Avrei firmato A inizio A inizio serie Avrei firmato Per Un campionato tranquillo Da metà classifica Non ci avrei mai sperato Di raggiungere La finale di playoff E fallaccio E fallaccio Ma era fallo Ma era fallissimo Ma no No Vabbè dai Questo Mamma che portere Che abbiamo Ma questa è un bucio Terribile È un bucio Terribile Che ci hanno avuto Dai Dai Fuori sta falla Fuori sta falla Fuori sta falla L'ho detto Ma andavissimo Stoccon anche in difesa Giardino Giardino Dai Giardino Dai 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 Parti Giardino Parti Giardino Che sei il nostro futuro Sei il nostro futuro Giardino Sei il nostro futuro Dimostra Dimostra che puoi Puoi valere Puoi valere Fermati Giardino Indolta cattarola Vai Giardino Calma calma Prendi tempo Prendi tempo Giardino Bravissimo Palla per Stoccon No Cosa suggerisci Henry Dai Il nostro principe Per il nostro Mel Gibson Dai 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 Diamo spazio a tutti Diamo spazio a tutti L'ho mai andata Fuori il principe Henry Per Mel Gibson Signori Fuori il principe Henry Per Mel Gibson Giardino La batte corta Per Sullivan Che la spizza Non è riuscita La girata di testa Palla che esce fuori 87 87 Signori Dai 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 Si fa vedere Di Agurara Gli diamo la palla Così finalmente Tocca il suo primo pallone Di Agurara La gira per Giardino Che Giardino Attenzione Giardino 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 Per Rosallivan Che si trova Sull'altra fascia Palla al centro Stoccon invece di colpire la palla di testa Ha dato una spallata al difensore del 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 Braidfort Però va bene Tutto è valido In una finale di pre-off Signori Tutto è valido Dai dai Guarda Giardino Guarda Giardino Grande Giardino Che si accentra Giardino che si accentra E mamma mia Sei lento Lento come pochissimi al mondo Però va bene Oramai stiamo a vincere Raga Quindi Va bene qualsiasi cosa Va bene qualsiasi cosa Con calma Con calma Con calma Lavandino Quattro minuti di recupero Se ne sono noi già i primi due Signori I primi due se ne sono Aladino Ma perché Aladino si è fatto marcare così Dico devi farti vedere Aladino Non devi nasconderti dietro il difensore Vabbè che erano messi Abbiamo vinto Signori Il Morecambe Se ne va Il League One Signori Non mi mancano gli ultimi minuti Wilding È finita Signori Il Morecambe Se ne va Il League One L'anno prossimo Ce la vedremo Malissimo Praticamente Ma vinciamo La finale Di playoff Mi dispiace Il giocatore del Bradford E mi dispiace Signori Quest'anno Noi L'anno prossimo Forse a voi E noi Ce ne andiamo In League One Guarda Lavandino Che va a festeggiare Tutta la squadra Festeggia Che cosa bella Anche il secondo portiere Tutti che si abbracciano Tutti contenti L'importante È non fare A sembramenti Signori Tutti Tutti Con la mascherina Va bene Va bene Va bene Sto con Sto con Diagura Che non ho fatto niente Però va bene E Aladino Mellor Li vediamo tutti lì Dai con la premiazione Chi l'alta Wilding Mi sembra giusto La coppa Dei playoff Abbiamo in Dei playoff Quindi la coppa Dei playoff Ce la siamo portata A casa Signori Potremmo dire Che un piccolo Un piccolo trofeo Già l'abbiamo portata A casa Un piccolo trofeo L'abbiamo portata A casa Ci siamo portati La coppa Dei playoff Di lì Tu Non è ovviamente La OLE Taglie così La prima La prima Di numerevoli coppe Che questi Gamberetti Quest'anno Devono vincere Quest'anno Devono vincere La prima Di numerevoli coppe Taglie così Taglie così Signori Bella Bella Sono contento Sono contento Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Andiamo avanti Andiamo avanti Ignoriamo le interviste Che sinceramente Non c'ho voglia Di farmi le interviste Va bene così Perfetto signori Siamo ufficialmente In league one Perfetto Che sarebbe la serie c In inglese Praticamente Perché poi Di sopra c'è la Premiership La championship E poi la league one Detto questo signori Ora si prospetta Un Devo semplicemente Completare Questo mese Di giugno E poi ci sarà Il mese di luglio Che inizierà La nuova stagione Quindi signori Io penso che Andrò avanti Fino al primo di luglio Poi off camera E ci rivedremo Primo di luglio In modo tale Da impostare la nuova stagione E vedere quali sono Le situazioni da affrontare Dei due signori Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i sugeriti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao